C'è Dio affacciato un terrazzo che ha appena finito di creare il mondo. So, guarda, capito, è orgoglioso di quello che ha creato i fiumi, le montagne, una palla bella tutta azzura, gli animali, tutto quanto. Che è che sta lì così, a certo punto arriva San Pietro, guarda, fa, mamma mia, ha fatto proprio un bel lavoro, Dio, bravo, ma c'è troppo silenzio. Allora, Dio fa così, a me ti piace ragione, non ho fatto le voci agli animali. Fa una cosa, via lo specchio delle voci, andiamo giù e gli diamo le voci agli animali. Allora, San Pietro, via sto specchio, gli fa, ma come funziona, Dio? Ti fa, guarda, ti faccio vedere come funziona, pianta lo specchio per te, si mette davanti gli animali, a un certo punto fa, mucca, via qua, la mucca si avvicina, Dio, pia la mucca, ha mette davanti lo specchio, la mucca si guarda come si guarda lo specchio, fa. Perfetto, te parlare così, vado, se ti gira, pecora, via qua, pia la pecora, ha mette davanti lo specchio, la pecora come si guarda, fa così, beh, 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 perfetto, te parlare così, poi passa il serpente, se te, vado, via qua, pia il serpento, mette davanti lo specchio, se ti guarda, ssss, perfetto. E fa così per tutti gli animali, a un certo punto è rimasto solo il suo maro, capirei, griscio, tutto, belloso, brutto, con queste due orecchie, mi fa, so, ma via qua, via il suo maro, ho metto davanti lo specchio, il suo maro, se gira, ho metto guarda lo specchio, fa qui, potete guardare il pacco, oh! Ha, 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 ha!